Ciao a tutti, benvenuti su Touch Gaming, in questo video vi spiegherò come risolvere il problema delle dipendenze in Valorant. Ogni volta che esce un nuovo aggiornamento del gioco, si aggiorna anche il client e di conseguenza l'anti-kit. Senza anti-kit non potete giocare. E puntualmente si ripresenta l'errore delle dipendenze, cioè è impossibile installare le dipendenze, bla bla bla, e quindi come si fa a risolvere questo problema? Non è necessario disinstallare completamente il gioco, anche perché immaginatevi di riscaricare il gioco ad ogni aggiornamento, non è una bella cosa, ma basta disinstallare e reinstallare solo l'anti-kit, quindi il client e l'anti-kit, insomma, il gioco no. Come fare per risolvere il problema? Allora, se siete su Windows 10, andate su Start, Impostazioni, App, e qui scrivete VanGuard o Riot, e cliccate qui, cliccate su Disinstalla, Disinstalla, e cliccate poi su Sì. Io non lo faccio perché l'ho già fatto, altrimenti poi mi tocca reinstallarlo. Riavviate il computer, se non risolvete il problema c'è un altro trucchetto che potete fare, ossia andate su Start, digitate CMD, tasto destro, esegui come amministratore, e digitate SCDeleteVGK e premete Invio, dopodiché riavviate il computer. Ora non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale di Valorant, scaricare il client, installarlo nuovamente e lanciarlo. Verificherà i file di gioco, perché il gioco sarà presente ancora sul vostro computer, quindi non lo dovrete riscaricare, e una volta che sarà stato riscaricato e reinstallato il client e l'antikit, e saranno stati verificati i file di gioco, potrete nuovamente giocare senza problemi. Se non siete su Windows 10, allora potete disinstallare il client dal pannello di controllo, quindi andate su Start, digitate pannello di controllo, qui cliccate su Programmi e funzionalità, ecco l'avevo perso, e qui stessa cosa, digitate Riot Vanguard, scusate, e cliccate su Disinstalla, e poi va bene, seguite la procedura guidata per la disinstallazione. Quindi ricapitolando, per risolvere il problema delle dipendenze in Valorant, dovete disinstallare il Riot Vanguard e reinstallarlo da capo, quindi la procedura è quella di disinstallare il client tramite le applicazioni, o il pannello di controllo a seconda della versione del sistema operativo, e con quel trucchetto in DOS, riavviando poi ovviamente il computer. Se questo video vi è servito, e mi auguro di sì, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Dash Gaming, e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.